Questa è la storia di Collina, che abitava nelle montagne Giovanni. Ogni volta che andava a scuola, tutti lo prendevano in giro perché non aveva internet. Quindi un giorno disse, adesso vado a prendermi un cavo internet così posso avere internet. E si costruì un pinguino a propulsione e partì per il viaggio. Sei giorni dopo, arrivò al negozio di ferramenta. Entrando, udì una voce. Collina, Collina, chi mi sta chiamando? Collina, prendimi in mano. Oddio, tu chi sei? Io sono il martello, martello. E tu puoi diventare un supereroe. Oddio, che bello. Il punto è che nessuno udiva il martello oltre che Collina. E quindi un tizio disse, dai polizia, vieni presto che c'è questo pazzo che sta parlando con un martello. Quindi dal panico, preso il martello, lo scalaventò via contro la vetrata del negozio. Ma fuori vide il pinguino a propulsione ucciso dagli agenti di polizia. Oh no, pinguino, ti hanno ucciso. E sì. No, io come faccio senza di te? E vai avanti. No, è il panno. Quindi scappò via attraverso i colpi della polizia, molto, molto. E arrivato a casa, sua mamma gli disse. Ehi figlio, dove sei andato? Ehi, io, il mio pinguino, figlio, rispondi alle mie domande. Ho preso il cavo Ethernet. Adesso vado, eh. Divertiti con i tuoi amici online, eh. Io vado, vado a preparare la cena. Aspetta, tu cosa vuoi da mangiare? Ehi! Lo shock della madre si intensificò quando vide il figlio impiccato dal cavo Ethernet. Fine.